benvenuti a tech talk benvenuti a italian tech lab jedi dedicato alle nuove tecnologie e condotto diretto da riccardo luna oggi parliamo di ilon musk ilon musk che lo scorso 3 dicembre ha pubblicato un tweet interessante perché in questo tweet c'era scritto grazie andrea per come ci stai aiutando a risolvere questo problema andrea e andrea stroppa che abbiamo con noi oggi studio è un italiano 28enne informatico esperto di sicurezza informatica uno dei più grandi esperti nel nostro paese sta lavorando con ilon musk lo sta aiutando e sentiamo appunto da lui come sta aiutando ilon musk andrea che cosa stai facendo con elon stiamo cercando di risolvere un problema che è stato diciamo lasciato dalla vecchia gestione di twitter relativo ai contenuti pedopornografici sulla sua piattaforma e diciamo che come acquistato la piattaforma ilon si è reso conto di questo grave problema e ha detto a tutto tutti ingegneri a tutto lo staff che prima di pensare al prodotto prima di pensare a rimettere a posto l'azienda da qualsiasi punto di vista la priorità era risolvere questo problema e quindi gli sto dando una piccola mano sto lavorando insieme al al team interno di twitter dedicato alla sicurezza e stiamo cercando di fare pulizia rendere la piattaforma molto più sicura ma perché cos'è che non funzionava prima su twitter tra l'altro ilon musk ha tagliato tutto praticamente il consiglio di sicurezza di twitter il vecchio consiglio di sicurezza di twitter tra cui il capo della sicurezza io e rot che tra l'altro attaccato duramente ma diciamo che il vecchio twitter aveva altre priorità si era dato come priorità quello di gestire il dialogo su una piattaforma globale e questo tema il tema pedopornografia era stato messo da una parte e nel tempo si è accumulato molto materiale il vecchio capo della sicurezza seppure aveva un team molto importante con persone molto capaci aveva indirizzato queste risorse su altri temi il tema c'è da dire che poi twitter è una delle poche piattaforme che tollera la pornografia però sappiamo che talvolta il confine viene superato e quando viene superato ovviamente bisogna agire fortemente prima twitter aveva delle policy secondo me da fuori di testa cioè se un utente pubblicava il materiale pedopornografico invece di rimuovere l'account tutto il profilo toglieva il singolo tweet questa policy è stata cambiata immediatamente da mask al primo errore al primo contenuto pedopornografico caricato sulla piattaforma l'utente fuori non solo si sta facendo in modo che l'utente non possa più tornare sulla piattaforma ecco sempre a proposito della pedopornografia di quello che state facendo in questo momento c'è però anche chi dice per esempio c'è un articolo che è uscito recentemente su wired usa o uk che dice che i recenti tagli che masca ha fatto a twitter hanno comportato anche una riduzione del personale dedicato proprio a questa battaglia soprattutto nell'area asiatica dove ci sarebbe soltanto una persona che si occupa di contrastare la pedopornografia sulla piattaforma tu diciamo lavorando a stretto contatto con questo team puoi confermare questa cosa oppure quello che si è detto non è vero ma oramai dicono di tutto lo attaccano in tutti i modi da una parte forse è comprensibile perché molte di queste persone fanno interviste ovviamente non mettendoci mai la faccia ma come anonimi sono ex dipendenti e quindi è comprensibile che magari ci sia un risentimento nei suoi confronti però la realtà è ben diverso adesso a capo di twitter non c'è più una persona che non dà priorità a queste tematiche ma c'è una donna si chiama ella irwin è una professionista che forse da donna senta ancora di più questo tema e che sta facendo un ottimo lavoro la conosci direttamente la conosco ci collaboro è una persona che ha a cuore questo tema che ascolta non ascolta solamente diciamo le persone vicine a twitter ma si interfaccia anche con le associazioni ma anche con gli utenti recentemente mi ha contattato un utente che mi ha detto sai che avevo scritto un tweet perché ho visto del materiale pedopornografico e mi ha contattato è la irwin direttamente dicendo voglio più informazioni è proprio un cambio di paradigma prima twitter neanche rispondeva se c'era un problema era una piattaforma differente adesso è una piattaforma molto più più attenta a certe tematiche e il lavoro che si sta facendo è globale quindi non è vero che in asia è stata dimenticata anzi si sta lavorando proprio fuori dagli stati uniti in questo momento ascolta per chi non si interessa di sicurezza informatica probabilmente quando sente nominare andrea stroppa dice chi è questo ragazzo nel senso non è all'ordine del giorno che un ragazzo di 28 anni come te italiano si interfacci con uno degli uomini più ricchi del mondo amministratore delegato di tesla di space x come si attira l'attenzione di una persona di questo tipo ma io cavolgerei la domanda è come fanno molti amministratori delegati a non notare i tanti talenti che ci sono nel mondo io non sono un talento però un buon informatico c'è molta gente più competente di me e alcuni amministratori hanno questa capacità di guardare oltre quello che succede all'interno dell'azienda magari attraverso le risorse umane che ti propongono dei candidati cioè sono loro stessi che dicono che succede qua fuori e Elon è uno ma accade spesso ci vuoi fare un altro esempio qualcuno che ha chiamato a lavorare con lui semplicemente dopo aver visto un suo tweet George Oates che ovviamente è un super informatico americano che ha un passato da hacker che è esperto in tantissimi campi della sicurezza informatica e anche lui ha fatto un tweet e ha detto se vuoi una mano vengo volentieri bene vieni vieni a darmi una mano perché l'approccio è molto come dire diretto molto senti io scherzavo con te prima di questa conversazione dicendo che Elon Musk ci ha tolto un po' il sonno anche a noi perché ne scriviamo quotidianamente a ogni ora praticamente ma l'ha tolto soprattutto a te visto il fuso orario quante volte senti quotidianamente Elon Musk e stai progettando di raggiungerlo ti ha chiesto di andare lì appunto negli Stati Uniti per un confronto di persona lo sento il necessario lui è molto impegnato non so come faccia a gestire tutte le aziende ma riesce veramente bene quanto durano le vostre riunioni? molto poco tipo? è lo stretto necessario dal volto a qualche minuto qualche minuto? sì perché il suo concetto di gestione dell'azienda è che il tempo ha un valore troppo importante e quindi si deve arrivare subito al punto capire quali sono i passaggi ci si pone gli obiettivi e poi bisogna portarli a termine quindi molto semplice come ma che fa nelle riunioni? lui ascolta e parla per ultimo oppure è lui che detta insomma la linea, l'agenda e gli altri riferiscono? lui è una persona che ascolta poi decide è il leader che ascolta però è il leader che poi decide perché ha le competenze ha la visione per fare quello che fa quello che ha fatto quanto c'è di vero in quello che dicono il modo in cui spreme i dipendenti il suo detto go hardcore andare al massimo fino in fondo oppure quella è la porta? sai gli obiettivi che lui pone sono così ambiziosi che le persone si sentono parte di un processo di cambiamento che ha impatto sulla vita delle persone e quindi non è questa figura che impone sono proprio i dipendenti che sono lieti di lavorare con lui per il time Elon Musk nel 2021 è stata la persona dell'anno non c'è dubbio che lo sia stata anche nel corso del 2022 nel bene e nel male per molti più nel male per certi versi tra le critiche forti che sono state fatte appunto a Musk c'è stata recentemente quella che riguarda la decisione di smettere di monitorare la disinformazione la disinformazione sul covid per esempio sulla piattaforma che cosa ne pensi di questo? penso che il discorso sia un po' più un po' più grande nel senso che il principio che lui ha stabilito su twitter è che twitter è una piattaforma neutrale che dà la possibilità di esprimere a tutti il proprio punto di vista e la propria opinione a patto che vengano rispettate le linee guida e ovviamente le leggi quello che era successo prima è che invece una piattaforma con influenza globale in mano a tre persone decidevano che cosa si poteva o non dire o dire sulla piattaforma chi doveva essere messo in evidenza e chi no e se togliere o meno un presidente in carica cioè si erano sostituiti a quello che fa un governo tu ovviamente stai riportando quello che è stato diciamo svelato o comunque quello di cui si è discusso attraverso i twitter files che sono questi diciamo documenti interni di twitter prima della gestione di Musk che Musk sta diffondendo pubblicamente attraverso l'aiuto di giornalisti freelance e quella comunque resta diciamo la versione di Musk supportata poi da documenti interni appunto che sono stati diffusi una delle prime cose di cui si è discusso appunto dopo che Musk ha comprato twitter è stata la possibile riammissione dell'ex presidente degli Stati Uniti Trump appunto c'è stato un sondaggio gli utenti si sono detti a favore ma Musk ha fatto anche altro da questo punto di vista ha riammesso degli account molto discutibili degli account neonazi e al punto da fare esclamare ad Atlantic una delle riviste più popolari autorevoli negli Stati Uniti Musk è diventato un attivista di estrema destra c'è una guerra in corso negli Stati Uniti che è una guerra politica perché la politica negli Stati Uniti ma come tante altre democrazie si è polarizzata il centro praticamente non esiste non esiste più in realtà Musk nasce come democratico ha votato per tre volte i democratici e lui si definisce indipendente quello che è successo in questi anni è che la sinistra che tra virgolette chi più di lui ha contribuito ai temi della sinistra penso all'ambiente ha accelerato la transizione ecologica come nessun altro oppure la scienza SpaceX quindi diciamo potremmo facilmente dire che è una persona di sinistra la sinistra inizia ad attaccarlo perché era ricco perché era miliardario e l'ho attaccato così forte da provocare una reazione la reazione è stata da io mi allontano da voi perché mi state dipingendo per quello che non sono l'argomento di chi può non può parlare su Twitter rientra proprio nella nella sua visione la sua visione dice siete tutti liberi di parlare con dei paletti il problema è che gli account che sono stati rimossi alcuni di estrema destra ovviamente sono stati rimossi non perché avevano erano andati contro alcune regole di Twitter o contro delle leggi erano stati rimossi perché non rispecchiavano la visione e l'idea della leadership precedente quindi Musk ha detto io vi rimetto una piattaforma sinistra estremisti di sinistra di destra quando sbagliate l'account verrà sospeso ascolta tutti quanti noi nelle riunioni a volte ci capita di parlare di qualcosa che sia off topic che non abbia nulla a che fare con l'argomento del giorno per Musk sarà molto difficile perché ci hai detto che le riunioni durano pochissimi minuti ma gli è mai capitato durante le riunioni di dire qualcosa che non avesse a che fare con il lavoro ma magari con quello che succedeva nel mondo un commento o un'opinione che ti ha colpito no sul lavoro è estremamente focalizzato non esce fuori dal dall'argomento che modi ha? è una persona diretta dura? molto gentile e decisa di certo non è stato molto gentile con il ragazzo Jack Sweeney che ha creato l'account Elon Jet che è quello che monitorava monitorava attraverso dei dati che comunque erano pubblici ma di certo difficilmente accessibili per un utente medio gli spostamenti del jet privato di Musk Musk inizialmente quando ha comprato Twitter ha detto Elon Jet resterà non avrà problemi poi ci ha ripensato anche questa diciamo può essere considerata un po' una prepotenza che è successo? perché ha cancellato quell'account secondo te? ma intanto farei un passo indietro in questi mesi credo siano usciti centinaia di articoli che lo dipingono in tutti i modi ha aiutato la Russia che non è vero ha aiutato l'Ucraina non ha rispetto per nessuno è una specie di dittatore leggeva addirittura un editoriale che lo dipingono come un dittatore ovviamente questo ha suscitato delle reazioni nelle persone e queste reazioni sono sempre più violente quindi con minacce minacce di morte quell'account tracciava gli spostamenti in tempo reale dell'aereo privato di Musk questo significa che lui ogni volta che stava per arrivare ad un aeroporto si trovava delle persone lì e questo è un pericolo non soltanto per lui ma anche per chi sta intorno a lui per la sua famiglia ma anche per chi si trova lì perché sappiamo che negli Stati Uniti le armi girano ed è molto facile essere armati lui non dice non tracciatemi lui dice non tracciatemi in tempo reale perché se voi mi tracciate in tempo reale state mettendo a rischio me e la mia famiglia infatti che cosa succede? succede spesso che lui esce dagli aeroporti e si trova dozzine di persone chi vuole un autografo chi lo contesta prima o poi succede qualcosa di brutto quindi lui dice va bene tracciarmi sono un personaggio pubblico io non condivido questa cosa però l'unico a patto che non venga messo a repentaglio la mia sicurezza personale è quella dei miei cari infatti stanotte abbiamo visto che un individuo ha seguito il figlio e gli è saltato sopra la macchina mentre era con ovviamente la sicurezza andando avanti così prima o poi succede un incidente Andrea Musk ci sta aiutando in qualche modo anche a capire che cos'era Twitter o che cosa è stato finora anche attraverso i Twitter files non sappiamo benissimo o meglio ci ha detto qualcosa su questa super app verso cui punta la piattaforma ma comunque non sappiamo qual è la strategia per il futuro tu puoi dirci qualcosa in più ma la sua visione è quella di una super app questa super app è un è un insieme di servizi che si trovano all'interno di una singola applicazione in Cina è un modello che esiste da da molti anni con una singola app fai messaggistica compri i biglietti per il concerto fai i pagamenti puoi fare streaming questo è un concetto che a lui piace molto è un'idea che piace molto non so quando si inizieranno a vedere questi cambiamenti perché quando ha preso in mano Twitter si è reso conto che la vecchia gestione ha lasciato molti problemi strutturali e quindi diciamo che per adesso la priorità è mettere a posto Twitter gran parte del lavoro è stato già fatto e poi la fase successiva sarà quella pian piano di immaginare un Twitter un po' più grande un po' app del tutto fare dove gli utenti possono gestire molti aspetti diciamo dello stile di vita ascolta Musk è particolare anche perché recentemente ha pubblicato anche una serie di slide su Twitter che raccontano un po' l'andamento dell'azienda in questo periodo tra queste slide ce n'era una che era un po' in controtendenza rispetto ai tagli che ha fatto ricordiamo che ha licenziato più o quasi la metà della forza lavoro su Twitter una slide diceva we are hiring stiamo assumendo ora che consiglio daresti a un ragazzo italiano della tua età o anche più giovane di te che volesse lavorare a Twitter con Elon Musk come può fare? di candidarsi perché lui non è che ha mandato via dei dipendenti perché è cattivo o c'è là quei dipendenti infatti se vediamo Tesla per esempio un'azienda che dà lavoro a quasi centomila persone le aziende Tesla sono le più sicure per i lavoratori nel settore automotive lui ha fatto dei tagli perché i dipendenti non erano produttivi ci sono dei video su internet fanno anche un po' sorridere questi manager che lavorano dentro Twitter che passano le giornate al solarium in palestra e tutto questo dentro la sede di Twitter la sede di Twitter era diventata una specie di centro benessere però ora nella sede di Twitter si dorme anche i dipendenti dormono anche per rispettare gli obiettivi di Elon Musk non si è passato forse all'estremo opposto in Italia quanti artigiani dormono a bottega quante persone lavorano fino a notte tarda in ufficio stesso Elon Musk ha dormito per anni in una catena di montaggio i Tesla nessuno è obbligato a dormire lì è un modo di lavorare ed è esattamente l'opposto di quello di prima lui dice qui un lavoratore medio guadagna intorno ai 200.000 dollari l'anno quindi 200.000 euro per capirci più o meno di fuori ci sono persone che guadagnano 20.000 euro l'anno e lavorano magari molto più di voi se volete stare qui questo è il metodo e il modo di lavoro se no è un Andrea perché non vai negli Stati Uniti a lavorare con lui? perché per ora io sto dando una mano a qui c'è tanta gente bravissima che si sta unendo e quindi per ora le do una piccola mano e poi si vede ma è pieno di persone brave noi in tanti mesi che scriviamo di Musk in realtà ancora non abbiamo capito benissimo fino in fondo che persona è tu comunque sei a stretto contatto con lui puoi rispondere un minimo per provare rispondere alla domanda chi è Musk? L'uomo rinascimentale sui giornali anche italiani lo hanno dipinto come un un invasato forse uno che ha pure poca cultura ricordo degli articoli di Gramellini che diciamo venditore di fumo oppure tutti si sono un po' espressi Fedez ha detto che in Italia sarebbe stato arrestato non si sa il motivo però ha detto così è una persona che è estremamente curiosa e ha una cultura umanista uno direbbe no è un esperto di tecnologia è un ingegnere invece ha una passione per la letteratura e avete una passione in comune che è la storia dell'arte comunque la storia di Roma antica rinascimento e anche avete interagito in passato prima di quel tweet in cui ti ha ringraziato avete interagito sul il signore degli anelli esattamente lui è un fan di Tolkien e è molto lui è soprattutto colpito da alcuni concetti no Tolkien rispondeva molto spesso alle lettere dei fan e un fan un giorno gli scrisse quello che tu hai costruito quello che hai inventato quello che hai scritto illumina il mondo e a Elon ha colpito la risposta di Tolkien che dice la luce che tu dici perché questo utente dice hai acceso come una lampada nel buio così in realtà non l'ho accesa io ma passa attraverso di me come per dire facciamo tutti parte di un disegno più grande io sto facendo la mia parte infatti quello che lui ha detto anche mi piace il il Vangelo mi piace l'ha citato spesso si l'ha citato spesso la verità vi renderà liberi non è che si sente un po' troppo vicino a una divinità dopo tutto questo successo no perché secondo me è proprio il contrario se tu prendi una persona che ha un patrimonio molto alto c'è stato un momento che aveva un patrimonio di 300 miliardi lo vedresti inavvicinabile lo vedresti su uno yacht quelli che che so quando andavo in vacanza vedi questi yacht immensi che sembrano delle navi da crociera e invece no vive in ufficio fa una lo sappiamo però l'ha detto al suo dipendente quando si è lamentato troppo del duro lavoro gli ha detto potrei stare a bere drink con modelle mezze nude e invece sto qui insieme a voi a lavorare quindi questa è un po' la sua frase simbolo e risposta a chi si lamenta dei insomma turni massacranti a Tesla e nelle sue aziende lui è l'unica persona estremamente ricca che conosco che che è così cioè non conosco nessun altro che ha quel patrimonio e vive sostanzialmente come un operaio si può dire forse è un po' esagerato dire così perché poi ovviamente si sposta con l'aereo privato però la maggior parte delle ore della sua giornata è quella di un lavoratore mentre altri amministratori delegati o persone estremamente ricche non hanno la sua la sua vita ovviamente è un privilegiato e non è però è un privilegiato che si è fatto da solo ti voglio fare un'ultima domanda Andrea in tutto questo tempo che hai conosciuto Musk appunto che hai lavorato con lui c'è stata una volta in cui ti ha deluso? no perché io penso che una persona che sta dedicando la sua vita interamente con dei ritmi lavorativi pazzeschi che invece di pensare alla sua ricchezza personale al suo benessere personale sta investendo le sue risorse per far progredire l'umanità è qualcosa di più unico che raro se pensiamo a tutto quello che sta facendo a tutte le sue attività compresa Twitter c'è un una sorta di di impegno non richiesto che però sta cambiando il mondo tra un po' le auto saranno tutte elettriche e tu sei un appassionato di SpaceX sai che se non ci fosse stato lui molte missioni oggi non ci sarebbero perché la NASA a un certo punto si era bloccata non voleva fare più niente anzi quando lui stava provando a lanciare SpaceX gli dicevano ma non ci riesci e chi è preoccupato dal fatto che se arriveremo su Marte appunto Musk avrà potere di vita e di morte sul pianeta rosso? io penso che nel frattempo che arriveremo su Marte il contributo della sua azienda di SpaceX su di noi è immenso penso a due cose uno relativo alla scienza come sappiamo nello spazio ci sono delle condizioni diverse quelle che ci sono nella Terra e si fanno molti esperimenti per curare le malattie e quindi da una parte il progresso scientifico e poi per esempio recentemente è rientrata la nostra comandante Cristo Foretti è entrata sulla Terra grazie a SpaceX io quindi penso che nel frattempo che lo criticheranno gli diranno che è un pazzo che caccia balle che si inventa delle storie che mai accadranno io penso che lui stia cambiando il mondo per il meglio e quindi lui forse si diverte anche perché quando legge di chi lo sottovaluta poi gli dimostra il contrario quindi sono molto fiducioso in quello che sta facendo benissimo grazie ad Andrea Stroppa e grazie a chi ci ha seguito grazie a tutti grazie a tutti